ciao a tutti io sono milenia e bentornati in questo nuovissimo video oggi andremo a fare la reaction della 6x15 di vikings quindi la quinta puntata della 6b che non solo conclude la stessa stagione ma anche la serie in sé io vi lascio su nelle schede debba essere qua la playlist che ho creato appunto di tutte le reaction che ho fatto finora e ci saranno poi anche le prossime appunto di vikings bene siete pronti vediamo un po cosa succederà in questa puntata mi piace Che stai facendo? Tu condividerai la tua buona sorte con tutti noi. Hai una scorta di carne, di grasso, di olio, ben al di là delle esigenze della tua famiglia. Ti esorto, chiedi il flat nose, aspirantere di slamba, sii saggio e coraggioso. Condividi la buona sorte con tutti noi. Non preoccuparti, Ube, è esattamente quello che farò. Ma se prima hai detto di no. Però nel frattempo dovevo assicurarmi che il posto fosse sicuro. Assicurarmi che nessuno venisse in piena notte a rubare pezzi di balena. Certo capirai. Ok, ci stanno in scusa dai. Ma che cacchio si è messa? È ora di andare. È ora di andare. Avanti. Avanti. Sì. Ma che cacchio si è messa? Sì. Ma che cacchio si è messa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io non dico niente su Flochi. Però avevo mezzo letto qualcosa che mi ha fatto pensare che potesse non essere vero. Però a senersi da falsi spoiler sempre e comunque, anche dagli spoiler in sé. Non mi voglio comunque illudere di quello che ho letto perché dal trailer, cioè il trailer da quello che avevano messo su internet il primissimo video. Quindi sulla scena di Bjorn ancora vivo e mi sono illusa, quindi non illudiamoci. Dio cosa penserebbe se sapessi di sposare una strega. Lo sa? Lo sa? Molte persone vendono schiavi. Quindi te lo hai fatto per tu. Tu non sai niente riguardo a me. Io so questo. Mi hai venduto una volta. Non te lo ricordi vero? Certo che no. Però io sì. Come potrei scordarlo? Chi sei tu tre sfighi con gli uomini diciamo? Che hai già fatto? La tacca la mita. Che cosa vuoi che ti dica? Non lo so, scusa. Niente. Ora vattene. Finisco il mio abito da sposa. Puoi vedere il futuro? Ci serve Gimo. Ci serve Gimo. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Andate. Che cosa volete? È il tuo divisione. Avrai la tua parte. Non da te. Siamo qui per prendercela. Mettete un piede sulla mia terra e sarà la vostra morte. Ascoltatelo, faccio un serio. Andatevene, tornate indietro. Vi prego. Dai, Ubi, interveni tu. Siamo un altro passo e morirete. Che senso ha, chiedi? La balena è arrivata sulla mia terra. Tu la devi con me. Questo è bipolare comunque. Prima no, poi sì, poi no. Non aspetta nessun altro. Sei forse impazzito? Gli dei hanno scelto me. Non ti importa che tutti gli altri muoiano? Io sono il re qui. E sono io che decido chi muore. Non lo farai assassino. Ecco qua. Ma sei scemo. Ma io non lo so questo comunque. C'è qualche problema. C'è qualche problema. No! 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 Nooo! Nooo! Vieni via! Vieni via! Nooo! Torvi! Venite! Che fare col bambino! No! Alla navi! Senti! Non lo sei finito! Andiamo! Tornate qua! Tornate qua! Tornate qua! Stanno so curioso! Vieni! 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 noi! ora ci trovano la terra dell'oro lì? e chi ce la prende? ciò che c'è Ma c'è che dire cosa, se hai fatto quelli tutti, se li sono scappati, avranno più ricchezze di te, fidati. E ma c'è ježia, mi c'è lui si. E mami. Alla prossima. Congratulazioni per la promozione. Grazie. Possiamo restare amanti? Sicuro. Casi? Dopo il matrimonio, perché no? Ma perché no? Harald si fida di me, gli ha salvato la vita. Appunto. E come prima cosa vorresti tradirlo. Ma tu non lo ami. Brava. Prendi battere. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Bé. Buon anno. Buon anno. è una trappola Dico che è una trappola Fitti fitti di Ivar No, neanche io mi sarei fidata però Eh, come lo uccidono Se ne sono andati Cioè se ne sono scappati Eh no, non so scappati Ancora posso No le sape No, non ti fidare. Succederà qualcosa sicuramente. Dovrà succedere qualcosa. Non è possibile che sia così bello. E si giunsero al luogo detto Golgotha, che significa luogo del cranio. E quindi gli indietro da bere, gli indietro vino, mescolato con il miele. Ma dopo averlo assaggiato, si rifiutò di bere. Dopo averlo crucifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Al di sopra del suo capo poserò il motivo della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scotendo il capo e dicendo Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i capi dei sacerdoti e gli anziani si facevano beppe di lui. Dicevano, ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Allora scenda dalla croce. E noi crederemo in lui. Tu stai malato, fratello, comunque. Ma cosa cerchi dalla vita? Ha confidato in Dio. Lo liberi lui. Ora segniamo al bene. Ha detto infatti, io sono il figlio di Dio. Io sono il figlio di Dio. Tu. Io sono il figlio di Dio. Vabbè, se ti sei convinto, fratello, che ti devo dire. No, sicuramente c'è qualcosa. No, davvero, ti sei resa così? Tanto a dire facciamo un esercito, combattiamo. E adesso? Li accoglie. Vedi che c'era qualcosa di strano, dai. Fratelli miei, possiamo vivere tutti insieme in pace. Possiamo vivere come Dio ha voluto. Parliamoci e mettiamo da parte per sempre le nostre differenze. Igor, io ti amo come un figlio. Sicuro. E tu, Ivar, come un fratello. Non credergli. Lui non sa cosa sia l'amore. È uno scherzo, sta mentendo. Per la grazia di Dio. Per l'amore di Dio. Per tutto ciò che è sacro. Viviamo nella pace e nell'amore. Vi prego. Fratelli di Dio. Dio vede nei nostri cuori. Amiamoci l'un l'altro. Questo chiedo. Oh, miei fratelli in Cristo. È tutto ciò che chiedo. Cioè, non so se è uno scherzo o fa sul serio. Prendi arco e freccia e uccidi tuo zio. Non essere mai più storpio. Non lo so. Forse, a modo suo, mi ama davvero. Se non lo ucci, tu sarai male, però. Ti voglio bene, lo sai. Lascia che ti aiuti. Io offro il mio amore a tutti voi. No, no, aspetta. Lascia che l'uccida. Lo farò io. L'ha fatto davvero? Vado. Comunque fa che vado davvero sul serio, quindi. Non stava scherzando. Cioè, tu è così è morto. Ah, che schifo il zangolo. Beh, ora su casca, sbatta la testa e muore. Non stava scherzando. un po' più caisse. Apace. Ma su device, mi piace. Non stava scherzando. Non stava scherzando. Allora. Non stava scherzando. No stava scherzando. Un po' piùicationsa. Non stava scherzando. L�� dir. Grazie a tutti. 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 C'erano due in realtà. Si vuole uccidere. Grazie a tutti. E' un po' culoso con l'amico di Aaron. E' un po' culoso con l'amico di Aaron. E' un po' culoso con l'amico. E' un po' culoso con l'amico di Aaron. E quindi ci sta. E' un po' culoso. E' un po' culoso con l'amico di Aaron. 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 E' un po' culoso. E' un po' culoso. E' un po' culoso con l'amico di Aaron. che dubbio è il che avre come la pioggia gentile dal cielo che ci si teniamo? al solito, un bel mortoli al bc credo, si divertono E' Igor! Perciò quali sono i tuoi piani, Ivar? Non saprei, ripete, da cosa? Da te, e tu lo sai, ma io sono qui ora, con la mia famiglia, quindi loro contano più di me, beh sì, mi dispiace. Non preoccuparti, ho altre ambizioni. Che ti importa? Cominciamo a fare in sospeso, non preoccuparti con me. Io sono felice, se tu non mi piesimi. Come potrei piasimarti? Perché aspetto il tuo bambino? Nooo! Oh no! Chocobasito, Ivar, ci credo. Abbiamo rovesciato un tiranno la cui sola ambizione era diventare re dei russi. Oleg era mio fratello. Nonostante ciò, non potevo permettere che accadesse nel mio paese, né potevo permettere che accadesse a mio nipote Igor, vero erede di questa terra! Ma niente di ciò sarebbe stato possibile senza l'intervento di due vichinghi. Prindiamo in vostro onore. Skull! C'è che una volta che siete a letto insieme... Vabbè succede, può essere. Però dai, per una volta. Tutta questa farsa qua... Cioè, l'avete ucciso voi e poi piangete perché... Cioè, siete tristi. Cioè, l'avete... Cioè, l'avete... Cioè, l'avete... Vuoi restare qui a Kiev? E tu? Non lo so... Katia è incinta del mio bambino. Il tuo bambino? Sì, è il mio bambino Quindi tu rimani sotto E non vuole che io resti Quindi verrai insieme a me Dove? Non sappiamo cosa sia successo là E così lo scopriremo Quindi non rimanete Non ho capito, non rimanete Non sto esitando Sai che siamo legati dal foto Finché tu ucciderai me O io te Che Dio ti benedica E ti preservi in questo giorno E in quelli a venire, amico mio Allora addio Ivar Ti prometto Che il nostro figlio Sarà benedetto E che non gli mancherà nulla E mi assicurerò che sappia Che suo padre è Ivar Senzossa Un re E un grande uomo Hai detto di amarmi Ivar Ma non è vero Tu amavi tua moglie Fredis E nella tua mente confondi me con lei Ma io non sono lei E ti deluderai E ti deluderai se tu un giorno lo realizzassi Per questa ragione devi andare E ti deluderai E così E poi E ti deluderai E per questa ragione A me Andungu Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi hanno detto che te ne vuoi andare? Non puoi, non lo permetterò. Tutto il paese è mio, io adesso possiedo il cielo e le nuvole. Ma non possiedi me? Allora è vero, te ne vuoi andare? Non puoi. Ma chi te l'ha detto? Ti voglio bene, ho bisogno di te. Anche io te ne voglio. Ma ora non sei più un bambino. No, solo un uomo può essere re. E un uomo deve mettere da parte le cose infantili e imparare a reggersi sulle proprie gambe. Tutti qui ti amano. Non partirei se non ti sapessi al sicuro. Sei al sicuro? E sarai re. Buongiorno. Potremmo incontrarci e ricordare tutto questo. No, non voglio che tu vada. Però l'accetto. Finché mi terrai dentro al tuo cuore, Aiva il Senzossa, io ti terrò dentro al mio. Un diamant. Sei cambiato? Non cambiamo mai, crediamo solo di farlo. No, sei cambiato. Che dire. Sto rivalutando tanto il personaggio di Aiva. All'inizio mi era antipatico come pochi, per non dire altro e non cadere nel volgare. Però lo stavo rivalutando veramente tantissimo e questa è stata un po' soft come puntata, nonostante ci sia un po' di carne al fuoco, c'è comunque, alcuni colpi di scena un po' che ti colpiscono. Vediamo un po' cosa verrà dopo. Ora, sono ufficialmente a metà della 6B, quindi ho visto cinque puntate. Ne mancano altre cinque, vediamo un po' come vanno. E noi al momento ci salutiamo. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata. L'unica cosa che vi chiedo è di segnalare qualsiasi tipo di spoiler. Nel caso qualcuno leggesse i commenti prima di vedere il video e di vedere appunto la puntata, vi chiedo di segnalare ogni spoiler, così poi ne possiamo parlare. Niente, iscriviti al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo, alla prossima. Ciao!